La delusione di Amanda Knox e Raffaele Sollecito è una soddisfazione espressa a pugno chiuso dall'avvocato di parte civile. Il processo d'appello per l'omicidio nel 2007 a Perugia della 21enne britannica Meredith Kercher va rifatto e questa volta saranno i giudici di Firenze a decidere. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione annullando la soluzione ottenuta in appello da Knox Sollecito. È molto scioccata, riferisce l'avvocato di Amanda Knox, molto triste, pensava che stesse per finire l'incubo, ma è anche molto forte e pronta a dar nuovamente battaglia. Lo ha fatto finora e quindi continueremo a combattere. E anche Giulia Bongiorno, che difende Raffaele Sollecito, esprime delusione. La battaglia continua, non è finita qui. Speravamo di poter dire oggi la parola fine. Oggi è il compleanno di Raffaele Sollecito, è un regalo che mi sarebbe piaciuto fargli e era ieri abbiamo finito. Condannati in primo grado a 25-26 anni di carcere, Raffaele Sollecito e Amanda Knox furono solti in appello due anni fa, quando la difesa riuscì a smontare la prova chiave, quella del DNA sulla presunta arma del delitto.